di connettersi che dobbiamo arrivare a mille a mille mi faccio un selfie con gli spettatori perchè mille sono tanti secondo me sono proprio tanti considerando che l'ho detto alle 8 e mezza di fare questa live quindi non c'è stato neanche così tanto tanto tempo per prepararsi chiudiamo gli occhi chiudiamo gli occhi e abbassiamo lo sguardo per poi fallo adesso non ci vedo non ci vedo non ci vedo non ci vedo abbiamo trovato Messi in live streaming abbiamo trovato Messi in live streaming in un live streaming ma non ho mai trovato un giocatore buono 3.730.000 e io me ne vado 3.730.000